Ti hanno dato le chiavi per una casa? Queste sono le chiavi della casa che ti hanno dato? Agli immigrati, subito una casa, chiavi in mano. Grazie all'accordo tra il sindaco, il prefetto e una onlus, in queste vie del centro storico saranno sistemati una quarantina di profughi. In appartamenti arredati, di tutto punto, non pagheranno bollette, non pagheranno tasse. Questa è via Farini nel centro storico di Parma, la via della Movida per eccellenza. Un luogo molto caro ai parmigiani, luogo di ritrovo soprattutto nelle ore serali, per le happy hour, per una cena nelle ore notturne. Ma anche di giorno lo state vedendo. Prima si avrebbero da mettere a posto tanti parmigiani, che sono sull'orlo del... Sull'orlo. Io sono padre di famiglia, prima si stiamo a casa mia. Poi dopo a casa mia, se riesco, si stiamo agli altri. Qua invece si succede contro la prima, si si stiamo a no. Quindi CHAC sta per Centro Immigrazione, Asilo, Cooperazione Internazionale di Parma e Provincia, una onlus. E' bene, è bello. Tu quando sei arrivato qui? 2011. 2011? Sì. E ti hanno aiutato? Mi ha aiutato benissimo, abbastanza bene. Sì. Quindi trova casa, dà cibo? Sì, trovo casa, trovo cibo. Mi pagano un po' di contributi. Un po' di contributi, ok. Si vive? Si vive, bene. Abita qui signora? Io abito qui e sono molto disturbata la notte specialmente, degli urli, degli schiamatti. Una cosa veramente, veramente oscena. Abito in affitto, pago 700 euro al mese su un appartamento da 100 metri quadri. So è che bisognerebbe anche pensare che abbiamo tanti altri problemi legati ai nostri anziani, legati a persone sole, legati a persone sfrattate. Queste sono le chiare della casa che ti hanno dato. C'è.